Tra pochi giorni le elezioni per il Presidente della Repubblica, ma nulla è ancora certo. Ecco le ipotesi di Siffredi Rocco per il prossimo Presidente della Repubblica. Ipotesi 1. Berlusconi. Ma è abbastanza mummia per fare il Presidente? Beh, mi consente, ma io sono giovane nel cuore. La mia compagna è qui, ha solo 32 anni, e ho giusto pronta una barzelletta per l'occasione. L'avete mai sentita quella dell'aereo con Obama, Putin, Berlusconi, il Papa e l'assistente del Papa? Vittoria di Mario Draghi. Ma voi state male, io sono venuto qui apposta da Essos con i miei Dothraki per vigilare su voi che siete solo una banda di Landrun. Vittoria di una donna? Io sono Giorgia, sono una mujer, sono Cristiana, Ronaldo, sono Aspetta. Ma a me non interessa, che ci faccio qui? Mattarella Bis? Per favore no, dai, non lo stesso pacco di napoletano, voglio godermi mia moglie e le mie nipote finché posso. Dai, voglio andare in pensione, ho anche una certa età, lasciamo che ad andare in pensione a 80 anni siano i millennial. Oppure la California! No, non quella California, questa California, la California in provincia di Livorno! Cartoni brutti per persone orribili!